Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Si svolgerà domenica 25 settembre a partire dalle ore 16 con diretta assicurata dalla nostra emittente la gara podistica San Lorenzo, trofeo Armando Di Mauro, evento sportivo alla sua 55esima edizione che richiamerà centinaia di atleti e un consistente numero di spettatori. San Lorenzo sarà oltre alla partenza anche l'arrivo finale e il percorso si snoderà sui 7 chilometri e 800 metri. Prima degli assoluti il programma prevede anche la gara per ragazzi, soprattutto quelli delle scuole medie. Annunciato anche lo sportivo cavese dell'anno che quest'anno è l'allenatore di calcio Pietro Santin, il quale verrà premiato domenica dopo la podistica. A margine della presentazione svolta si stamattina nel municipio di Cavaletti Reni a cui ha presenziato il sindaco Vincenzo Servalli. Abbiamo ascoltato il presidente del gruppo sportivo canonico San Lorenzo, Antonio Del Pomo, il presidente del CSI Cava, Giovanni Scarlino, e l'assessore alla pubblica istruzione Paola Moschillo. Come novità, in effetti quest'anno avremo la presenza di Dario Santoro, che dopo il terzo posto della San Lorenzo, a Ravenna si è avvinto il campionato italiano di maratona e quest'anno sicuramente lui non si accontenterà più del terzo posto, ma probabilmente metterà a rischio il dominio di qualche africano che sarà sicuramente presente alla San Lorenzo. Il connubio CSI Cava, Podistica Internaziana San Lorenzo, è dalla nascita e quindi viene riconfermato anche quest'anno. Oramai è un'unica cosa e il centro sportivo anche quest'anno occorrerà tutta la parte tecnica, sia dalla parte tecnica di classifiche, tempi e tutto quello che è lo svolgimento della corsa. Abbiamo aderito favorevolmente come scuole perché riteniamo che fondamentalmente la partecipazione dei ragazzi all'attività sportiva sia fondamentale. È per la crescita, per la socializzazione dei ragazzi stessi, per l'abitudine che loro devono incominciare a prendere ad un confronto che non sia solo ed esclusivamente conflittuale, perché nello sport la competizione c'è fino a un certo punto per quanto riguarda i ragazzi, ma anche per avere appunto la dimensione di quelle che sono le realtà sociali nelle quali si calano di volta in volta e quindi di affrontare questa manifestazione con uno spirito positivo di vera partecipazione.